Importante operazione a volla, quella eseguita ieri sera dalle forze dell'ordine intorno alle 22, quando i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per tentato omicidio un 22enne incensurato di Casal Nuovo di Napoli. Dagli accertamenti dei militari è emerso che poco prima l'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe litigato con un 37enne italiano senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, per poi colpirlo con un'arma da taglio nella zona occipitale sinistra. La vittima è stata trasferita nella casa di cura Villa dei Fiori di Acerra, dove si trova al momento ricoverato in prognosi riservata. L'arrestato è nel carcere di Poggioreale e a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arma un coltello a farfalla con una lama di 10 centimetri è stata sequestrata.